ok molto bene direi di cominciare a questo punto buongiorno a tutti ben ritrovati Gianluca Pucci Sales Engineer per il territorio italiano di Washcard oggi quello che andremo a vedere in questa nuova e ricorsiva puntata dei nostri webinar è sostanzialmente una overview tecnica quindi dal punto di vista di andare a vedere sostanzialmente i punti fissi di configurazione e dare loro il significato della nuova imminente soluzione che fra circa una settimana più precisamente data di uscita il 24 luglio popolerà i nostri listini chiaramente dal punto di vista commerciale e rappresenterà ovviamente una nuova possibile soluzione di business per voi sto parlando della nostra soluzione di multi-factor authentication Watchcard Outpoint come vi ho detto oggi ci concentreremo sostanzialmente sull'andare a vedere quali sono i punti principali della piattaforma quindi su che cosa si basa principalmente andando a vedere la parte di management in cloud quindi dove risiede sostanzialmente il front end e il back end della piattaforma e andare a vedere cosa si può fare come si approccia la configurazione che vedremo poi alla fine essere decisamente semplice quindi in quali tipologie di situazioni possiamo andare a proporre questa soluzione paio di note tecniche il webinar ovviamente come tutti gli altri sarà registrato quindi tempo tecnico dell'upload sul nostro canale youtube watch caritaria sarà ovviamente disponibile per rivederlo in un secondo momento seconda cosa qualsiasi tipo di domanda poi vi venga in mente giusto per far fruire correttamente poi il webinar potete scrivermi tranquillamente dopo la fine del webinar all'indirizzo che conoscete già quindi gianluca.pucci.watchcar.com ripeto gianluca.pucci.watchcar.com allora cominciamo ad introdurre l'argomento quindi la dashboard che vedete davanti quindi questa pagina web è sostanzialmente la piattaforma sulla quale oggi o quantomeno fra una settimana quando il prodotto sarà ufficialmente rilasciato è la piattaforma che ospiterà il servizio outpoint la piattaforma è il watch car cloud quindi oggi cominceremo diciamo a vedere oggi sarà utilizzabile sarà fruibile con un solo widget di configurazione che appunto il sistema outpoint in futuro lo sviluppo del watch car cloud rappresenterà per voi una piattaforma per poter gestire tutti i servizi che in questo momento stiamo deployando nell'ambiente cloud quindi tdr quindi dns watch quindi wifi cloud al fine di avere come console di management sia dal punto di vista della gestione dei servizi e sia dal punto di vista del deployment commerciale delle varie delle varie licenze sarà per voi ovviamente uno strumento uno strumento utile ovviamente quando sarà regime parlo del watch car cloud rifaremo un webinar che vi darà poi modo di capire meglio diciamo così la la sua struttura un paio di anticipazioni watch car cloud si baserà sulla possibilità di avere dipendentemente da che ruolo sia quindi se si è reseller se si è rivenditori informatici si sarà etichettati all'accesso previo il portale watch card come service provider quindi come service provider prendete sostanzialmente carico di tutti gli account registrati poi come subscriber sulla vostra repository quindi potrete amministrarli potete assegnare loro le licenze presenti e quindi potete fare proprio a tutti gli effetti da service provider un service provider può creare altri service provider per una struttura d'albero quindi mi viene da pensare qualora abbiate e gestiate un cliente con una struttura enterprise e vogliate demandare a loro tutta la gestione del vari licensing piuttosto che del diciamo così della configurazione totale degli apparati potete creare ulteriori rami di provider e quindi demandare poi a loro tutto il controller quindi è come se fosse un provider all'interno del provider i subscriber invece sono i figli diretti chiamiamoli così quindi sono tendenzialmente i clienti che andrete con una struttura semplificata che andrete a gestire e potrete dare quindi potrete deployare potrete fornire loro i vari servizi la scadenza dei servizi quindi potete lavorare sostanzialmente per quanto concerne ad esempio l'outpoint implement forzandogli una scadenza del servizio e potete poi creare per ognuno di loro degli operatori che gli consentiranno di vedere la loro singola istanza vuoi dal punto di vista del monitoring vuoi dal punto di vista commerciale vuoi dal punto di vista dell'operatività stessa ovviamente vedranno unicamente la funzione per la quale avete creato questo operatore ausiliario quindi un po sostanzialmente il limite che vi è oggi perché chiaramente come voi sapete se prendete in mano se gestite un dal punto di vista del servizio cloud un registrazione di un prodotto tipo ad esempio il tdr che date a un cliente finale o è il prodotto registrato sul vostro account di reseller il cliente finale non ha modo se non quello di conoscere l'accesso al vostro sistema la vostra area riservata watchcard di vedere poi la console di management del tdr con il concetto di watchcard cloud questo ovviamente sarà sarà possibile dopo questa piccola premessa introduttiva sul watchcard cloud ripeto arriveranno poi successivi webinar quando la soluzione sarà prossima all'uscita quindi sostanzialmente la consolideremo nel secondo semestre dell'anno ci concentriamo specificatamente sul sull'out point quindi andando a vedere i punti che ci interessano dal punto di vista della configurazione allora entriamo in uno dei subscriber quindi sostanzialmente il mio dove abbiamo la possibilità di vedere il tutto quello che abbiamo dedicato a questo subscriber e se ne vogliamo andare a configurare i servizi vedete che l'unico disponibile ad oggi per struttura è l'out point quindi per questo subscriber io ho la possibilità di gestire di configurare unicamente oggi il servizio il servizio point quindi questo come vedete questa struttura ci in futuro quello che succederà è che noi a questo subscriber avremo daremo accesso ad esempio alla tdr piuttosto che al dns watch avremo vari widget qui per arrivarne alla configurazione allora entriamo a bomba nel mondo dell'out point quindi quello che vedete ora è sostanzialmente la console di gestione del servizio ci sono due parti diciamo così che compongono il servizio dal punto di vista operativo la parte di back end e di configurazione di back end che ovviamente prevede tutta una serie di sottomenu e la parte ovviamente relativa al utilizzatore del servizio che si racchiude nell'installare una mobile app dove risiederanno poi i vari token e questa mobile app sarà poi il tramite con il quale l'utilizzatore usufruirà del servizio di multi factor authentication attraverso i mezzi messi a disposizione quindi lettore qr code one time password piuttosto che notifica notifica push questi tre mezzi che noi potremmo come andremo a vedere potremmo andare a personalizzare per ogni utente per ogni policy di servizi potranno essere resi disponibili tutti parte di essi insomma sulla base delle varie necessità ok la parte ovviamente più importante è quella che approccieremo oggi ovvero la parte di configurazione in back end del del nostro servizio allora partiamo dal punto di vista operativo dalla illustrare le varie componenti del sistema allora la parte di risorse quindi il menu resource contiene e ci dà modo di inserire che cosa tutte le funzionalità tutte le risorse a tutti gli effetti che potranno essere accessibili tutti gli ambienti operativi che potranno essere accessibili attraverso il sistema di multi factor authentication in buona sostanza le risorse comprendono i use case quindi casi di utilizzo del servizio stesso allora andiamo a vederli uno a uno quindi abbiamo l'idp portal la logon app radius client e la saml authentication allora partiamo con il primo concetto quindi il primo concetto l'idp portal viaggia di pari passo a braccetto con il la saml application allora di che cosa si tratta per capire meglio che cos'è che cosa intendiamo per idp portal saml authentication ci agganciamo un attimo al a un'altra funzionalità che i nostri firebox hanno ok che è l'access portal è una funzionalità che è disponibile sugli appliance virtuali tutti e sulla macchine sulle macchine fisiche a partire dal modello 370 perché necessita ovviamente di una piattaforma hardware piuttosto robusta per poter erogare correttamente servizio allora di che cosa si tratta dal punto di vista pratico poi scenderemo andremo a vedere anche il dettaglio di configurazione il l'access portal rappresenta per noi un'alternativa alla vpn ssl classica viene anche denominata vpn ssl agentless perché l'accesso in https alla frontend alla parte pubblica del del firebox ci dà modo di accedere a un pannellino sulla quale noi andremo a referenziare alcune applicazioni quindi dal punto di vista della configurazione si riflette ad essere questo quindi apriamo la nostra classica finestra del vsm l'access portal quindi dopo l'autenticazione l'access portal ci darà modo di accedere a diverse tipologie di risorse nello specifico premessa sto introducendo l'access portal perché poi c'è una comparazione diretta con l'out point quindi non sto mischiando gli argomenti ma era mandatorio parlare di una soluzione che noi in questo momento abbiamo esclusivamente su piattaforme i end quindi dal 370 in su per fare poi un giusto termine di paragone quindi l'access portal a noi ci mette a disposizione quindi atterrando sul 370 per intenderci 370 in su possiamo avere a disposizione web application esterne e sottolineo esterne non è ancora possibile utilizzare web application in accesso e in accesso access portal che sono interne all'infrastruttura quindi web application esterne mi viene in mente un account Dropbox mi viene in mente un banale account Salesforce quindi tutto quello che viene ospitato su piattaforma cloud esterna possiamo personalizzarlo possiamo ovviamente personalizzare l'icona utilizzare quella standard e tutta una serie di funzionalità http http s ovviamente desto premoto quindi avere sostanzialmente accesso in chiamiamolo così reverse proxy in desto premoto ovviamente qui sì che si parla di soluzione interna dove il vado posso andare a definire proprio un le credenziali d'accesso da utilizzare quindi posso mettere in profilo diciamo così delle credenziali per accedere direttamente alla macchina posso personalizzare insomma tutta una serie di componenti altra risorsa interna l'accesso ssh quindi in buona sostanza e ovviamente posso poi lavorare e mettere in gruppo tutte le applicazioni che ho che ho strutturato nel mio portale in buona sostanza quello che succede è che dall'esterno io accedo al portale e ne vedo sostanzialmente le risorse pubblicate ma sono senza necessità di forwardare porte con la protezione del protocollo ssl barra tls in questa funzionalità ed è qui che c'è l'aggancio tra virgolette con il nostro sistema hotpoint noi supportiamo per ottenere il single sign on delle web application quindi cosa vuol dire vuol dire accedere all access portal avere la nostra web application cliccarci sopra e non avere la seconda autenticazione richiesta anche se il profilo web la richiederebbe generalmente questa questo scambio di cortesia chiamiamolo così questa funzionalità il single sign on si basa sul protocollo saml protocollo saml è un protocollo web appunto di autenticazione di single sign on sta per security access markup language e ci permette di identificare un identity provider quindi colui che fornisce le identità e un server access quindi il diciamo il servizio finale quindi far interagire fra di loro questi due queste due entità nel protocollo saml per ottenere appunto la single sign on su una piattaforma di accesso allora in buona sostanza per quanto riguarda l'access portal ed è qui che andremo poi a fare la la comparazione con diciamo così con con multifactor authentication lato firebox quello che dovevo fare è sostanzialmente dovendo configurare il saml dare il nome del idp quindi dell'identity provider esterno che io interfacciavo al firebox dare uno stream quindi il nome era puramente rappresentativo dare uno stream ovvero il nome di dominio con il quale la mia interfaccia external che rappresentava il punto di accesso per gli utenti che devono utilizzare questo servizio può essere risolta quindi una banale account dinamide dns da andare inserire il provider esterno doveva fornire metadata via url o via file quindi qui andavo a inserire il metadata fornito dal identity provider dal punto di vista della riflessione sostanzialmente che c'è con il con l'out point succede questo succede che utilizzando la nostra piattaforma di multifactor authentication io non sono più obbligato ad avere un 370 per fornire al mio cliente una soluzione di accesso sicuro sulle sue web application esterne perché parte della funzione dell'access portal che era come vi ho mostrato era parte del dei firebox i-end che abbiamo a disposizione quindi dal modello 370 in su o delle situazioni virtuali ce l'abbiamo direttamente sulla piattaforma out point quindi l'out point fornisce anche un identity provider e ci fornisce la possibilità di interfacciare attraverso protocollo saml su tutta una serie di servizi esterni con le quali abbiamo anche delle guide di integrazione di cosa parliamo quindi nel momento in cui io creo decido di creare un identity provider io ad esempio ne ho già creato uno qui mi salvo sostanzialmente posso andare a estrapolare i metadata che dovranno poi essere che sono dati estrapolati dal out point e devono essere poi immagazzinati nella parte di back end della web application a cui mi andrò a interfacciare ok quindi posso scaricarli direttamente da qui in buona sostanza creando un portale idp quindi io gli do un nome nome ovviamente rappresentativo l'autenticazione avverrà tramite credenziali quindi inserisco username e do un alias a disposizione ok alias che viene che viene aggiunto nell'url di accesso che io erogherò al cliente quindi dovrò semplicemente dire caro cliente se vuoi accedere al tuo portalino con l'accesso alle tue web application che andremo adesso a configurare devi puntare qui ok quindi questo rappresenta sostanzialmente l'alter ego dell'access portal come punto di accesso ovviamente a questo portale devo integrare delle web application attraverso protocollo saml quindi tornando indietro dovrò aggiungere in parallelo le sam application andando a scegliere fra una serie di soluzioni che abbiamo già a disposizione quindi do un nome alla applicazione quindi la chiamo per intenderci ecco queste sono all'incirca le 40 guide 40 integrazioni già pronte che noi abbiamo a disposizione come vedete stiamo presentando tutte web application esterne a cui posso integrare protocollo saml e quindi rendere l'accesso fattibile attraverso soluzione multi-factor autentica vedete che c'è anche curiosamente c'è anche l'access portal quindi l'access portal diventa una soluzione totalmente firebox quindi omogenea firebox dove io posso mettere a disposizione per chi ha un 370 in avanti e per chi ha una piattaforma firebox v un portale protetto ovviamente da ssl il portale dove poi posso far coesistere direttamente le mie web application e le mie sessioni rdp piuttosto che ssh come vedete lato configurazione mi vengono richieste delle degli id dei url che rappresentano degli id quindi dove li trovo questi parametri se ho scelto di integrare il firebox access portal come portale all'interno della mia del mio dispositivo devo sostanzialmente andare a collaborare con l'access portal quindi service provider entity id customer service e logout url sono dati che vado a catturare all'interno della configurazione dell'access portal come torniamo un attimo precedenza quindi vado su access portal vado su saml vedete che una volta che ho configurato la parte qui ovviamente qui questo dato qui lo vado a prendere dalla metadata che vi ho detto in precedenza quindi incollo la parte di metadata che era estrapolabile dall'access portal e qua mi dice guarda se vuoi dati dell'identity provider da fornire al punto al tuo identity provider li puoi trovare direttamente qui quindi se io punto a questo indirizzo e andiamoci a puntare parlando di questo vedete che avrò sostanzialmente le opzioni da andare a copiare questo è una pagina web storata all'interno del firebox con tanto di certificato e dovrò semplicemente copiare queste informazioni all'interno della mia pagina di configurazione morale della favola avrò ottenuto la possibilità di integrare di dare come servizio service provider l'access portal integrandolo con la nostra soluzione altri esempi di service provider li trovate elencati qui con le relative guide di integrazione che trovate nel nostro help online alla voce outpoint integration guide c'è proprio un capitolo a parte quindi per intenderci banalmente senza scendere troppo nel dettaglio cerchiamo ad esempio che ne so la butto lì dropbox abbiamo la guida di integrazione per andare a ottenere tramite interazione del portale un accesso account dropbox configurato con il multi factor authentication quindi in buona sostanza ritornando a noi in coppia l'idp portal e l'applicazione samel sono due entità che viaggiano due risorse due use case che viaggiano di pari passo in realtà poi sono solo una per rappresentare quindi un tipo di metodo di accesso di utilizzo del sistema multi factor authentication è una soluzione che sostituisce in parte perché non può integrare desto premoto e non può integrare ssh ma solo web application sostituisce in parte chi non ha l'access portal solo unicamente per dargli l'accesso alle risorse web si può integrare con l'access portal ma lo può anche sostituire ok logon app la seconda risorsa quindi il secondo use case che possiamo avere col multi factor authentication è la logon app che cosa rappresenta rappresenta la possibilità di creare un file di configurazione dopo aver attestato semplicemente un nome e aver attestato un messaggio di supporto per chi poi vorrà accedere al pc e sostanzialmente installare una applicazioncina che vi mostrerò a breve nel pc dove voglio dare l'accesso e quello che succederà è sostanzialmente che al logon del pc io aggiungerò alle classiche credenziali username e password aggiungerò anche la possibilità di più che possibilità la necessità di inserire un terzo fattore di autenticazione in modalità multi factor quindi un otp one time password un qr code che può lavorare anche offline quindi anche quando la macchina non ha accesso ad internet e una notifica push ok allora un po' di precisazioni sull'utilizzo della logon app la logon app è valida per account presenti sul computer all'interno di un dominio oppure account indipendenti account standard sulla macchina quindi sull'accesso locale alla macchina lo username lo username del utente che sia in dominio o che sia come accesso locale stand alone sulla macchina lo username deve essere uguale che i sensitive all'utente che io che sarà poi uno step successivo che io aggiungo al mio sistema di one time password quindi il sistema di one time password si basa su dei utenti scusate di multi factor authentication si basa su dei utenti che possono essere generati in diversi modi come andremo a vedere a breve ma è importantissimo che lo username sia uguale sia che l'utente sia in dominio sia che l'utente sia stand alone vi suggerisco nel momento in cui poi vogliate cominciare a lavorare con con il sistema di multi factor authentication di andare a dare un'occhiata anche sulla user guide quindi sulla parte hot point giusto per dove è espresso nella logonapp proprio quello che vi sto dicendo quindi quali sono le cose a cui dovete prestare molta attenzione per poterla gestire quindi come vedete che si tratti di utente locale o di dominio deve essere lo stesso username dell'utente che io ho sull'access point sul multi factor authentication ok quindi in buona sostanza la seconda applicazione è totalmente se vogliamo esclusa dal mondo concettuale watchcard ma ci permette di avere una soluzione da far fruire in un'infrastruttura di rete dove per autenticare alla macchina di utilizzo io voglio per motivi di sicurezza voglio anche consentitemi bypassare il problema delle weak password delle password deboli oppure delle password rubate legando strettamente un fattore di autenticazione che è proprio della persona fisica perché poi ovviamente la persona fisica con dispositivo mobile alla mano avrà una serie di elementi per rendere ancora più specifico l'accesso perché chiaramente posso sbloccare l'applicazione con fingerprinting o riconoscimento facciale quindi proprio aggiungere il concetto ed è qui la chiave del multifactor authentication oltre che al push oltre che alla one time password oltre che al qr code è proprio l'accesso all'app che viene vincolato da altri fattori proprio come l'identità fisica legata proprio al fingerprinting oppure al riconoscimento facciale e quindi rendere ancora più esclusivo l'accesso ok terza e ultima modalità di applicazione che io posso andare ad aggiungere quindi torniamo un attimo sulla logon app ok quindi è importantissimo dopo aver configurato dopo aver settato diciamo così queste parametrizzazioni standard ci sarà la possibilità di generare un file di configurazione file di configurazione che dovrà risiedere nella stessa locazione da cui andate a lanciare andrete a lanciare la applicazione che rappresenta il logon app che dopo vi farò vedere quindi l'applicazione andrà a cercarsi un config file e si prenderà ovviamente quello generato da questa da questa istanza ma qui ci arriveremo ci arriveremo a breve vi farò vedere poi tutte le realtà di download ok l'ultimo use case prevede l'utilizzo di un del firebox sostanzialmente o di qualsiasi altro firewall come radius client perché noi mettiamo a disposizione il radius server quindi non c'è più necessità se qualcuno di voi ha già lavorato con soluzioni one time password diciamo che può tranquillamente sapere che il sistema è in realtà dal punto di vista del database di autenticazione è a tutti gli effetti un radius e oltre al delivery delle chiavette io devo poi installare devo gestire devo manutenere un database locale installando un radius all'interno della rete ecco noi mettiamo a disposizione il radius adesso vi farò vedere l'applicazione che per noi rappresenta la componente radius server il firebox o altri firewall possono rappresentare il radius client quindi in buona sostanza la risorsa a cui do accesso è tutte le applicazioni che io posso tutte le funzionalità che io posso avere in un firebox ok quindi parliamo di vpn parliamo di vpn mobile parliamo di autenticazione locale parliamo di autenticazione di management al firebox quindi tutto quello che il firebox fa coinvolgendo un radius può essere una use case con cui applicare il multi-factor authentication da qui ne deriva che ogni potenziale cliente che ha già un firebox diventa un potenziale cliente per il multi-factor authentication oltre che per la parte di servizio tm anche per la parte di accesso perché posso sposare una soluzione facile da implementare totalmente gestita da watchcard lato configurazione do il nome all'applicazione quindi per intenderci radius giallo qui andrò a mettere l'indirizzo ip della interfaccia del firebox o del firewall generale con cui su cui il radius è installato quindi in buona sostanza facendo un esempio se io installo la mia componente radius server che adesso andremo a vedere sull'interfaccia trusted del firebox e l'interfaccia trusted è ancora al default l'indirizzo che dovrò andare a mettere qui è proprio quello dell'interfaccia di chi rappresenterà radius client quindi il firebox ok 10 0 0 10 0 1 1 ok oppure chiaramente se l'ip è cambiato andremo a mettere quello cambiato la shared secret la andremo a definire la andremo a confermare una volta che installeremo poi il radius server come vi farò vedere in un secondo e quindi questa può rappresentare facciamo un esempio può rappresentare un'altra risorsa disponibile ecco qui che abbiamo elencato tutte le possibili realtà quindi ricapitoliamo idp portal è un portale di accesso dove io inserisco e configuro le mie web application esterne samel può lavorare in concomitanza con l'idp portal ad esempio per l'access portal e mi dà modo di integrare attraverso per ottenere il single sign on mi dà modo di integrare le web application esterne andando a leggere tutta una serie di guide che abbiamo già reso disponibili con una serie di web application esterne quindi è come se le due cose rappresentassero per me un access portal unicamente per le web application samel ok mentre il firebox 370 ha l'access portal di suo che include oltre che le web application anche sistemi destopremoto piuttosto accessi destopremoto piuttosto che ssh e io posso considerare l'access portal come possibile fruizione del servizio multi-factor authentication logon app accesso alla macchina in ambiente windows sotto dominio o stand alone attraverso soluzione multi-factor authentication e radius soluzione radius dove coinvolgo con la soluzione multi-factor authentication tutte le funzionalità che il firebox ha e che richiedono l'utilizzo del radius come database di riferimento radius pacchetto radius che noi di multi-factor authentication mettiamo a disposizione ok quindi questi sono le risorse sono sostanzialmente quello che io interpreto a livello di configurazione che diventa uno use case per applicare la soluzione i gruppi cosa intendiamo per gruppi comincio con una sezione negativa non è un gruppo di utenti il gruppo della multi-factor authentication è un gruppo di risorse è un gruppo di risorse che io assegnerò ad ogni singolo utente quindi non è un gruppo di utenti come potete vedere non c'è traccia di utenze ma è un gruppo di risorse ogni utente che io andrò poi a inserire che avrà il suo token di riferimento avrà la sua mobile app avrà se appartiene a questo gruppo avrà l'accesso alle risorse che io inserirò dentro questo gruppo in buona sostanza questo gruppo che io ho creato quali risorse gli assegno posso scegliere fra le uniche due che ho configurato ma qualora avessi messo anche la mobile app scusate la logo app avrei avuto quella anche a disposizione quindi in buona sostanza io per esempio voglio a questo gruppo voglio dare come risorsa la radius quindi la radius ci permette di posso definire se a questo punto la password dell'utente diverrà fondamentale o no potrà essere ignorata quindi potrà essere richiesta o meno quello che invece sarà richiesto è o la notifica push o la one time password quindi la push è più facile ma può tranquillamente essere utilizzata la one time password e quindi io la aggiungo come risorsa ok e la salvo ovviamente come situazione definitiva quindi a questo punto ho definito posso definire uno o più gruppi dove vado a selezionare tutte le mie risorse inserendole dentro a questo punto c'è la chiave di lettura finale ovvero le utenze le utenze sono o richiamano sostanzialmente gli utenti del radius voi sapete che ad esempio se utilizzate una soluzione radius on premises il software ok che voi installate su una macchina vi prevede prevede in qualche modo e maniera di compilare il database di popolare il database con delle utenze con dei gruppi di utenze nella nostra soluzione le utenze sono storate sul cloud ok e io lato locale lato rete locale devo solo andare a installare una componente radius che punterà poi come database utenti a quello che lui ha nel cloud quindi le utenze io posso ottenerle in due modi la prima è manuale quindi quando vado ad aggiungere un utente in maniera manuale ne configuro nome dati specifici indicherò lo username quindi creerò uno username può essere totalmente arbitraio ma vi ricordo che nel caso della logon app questo username deve essere uguale ha lo username dell'utente di dominio e della workstation stessa che avete sulla macchina quindi questo è mandatorio unicamente però per l'utilizzo della logon app ok quindi è fondamentale dopo che ho messo lo username importante diventa una mail perché diventa la mail perché dopo che io e ovviamente attribuire il gruppo di appartenenze il gruppo di risorse che ho creato prima a quest'indirizzo mail nel momento in cui faccio save verranno mandate due mail in parallelo la prima mail è la mail che in questa fase di sviluppo dell'outpoint servirà per gestire la password come vedete di questo utente non c'è la discriminante della password la password ve la fa creare questa mail ve la fa customizzare questa mail per conferma quindi riceverete una prima mail dove ci sarà un link di creazione della password da associare allo username e quindi avete le prime componenti del multifactor authentication di quest'utente che sono quelle che chiamiamo le statiche quindi username e password la seconda mail che arriverà è una mail con un link a un QR code ok che attraverso la mobile app che avrete già installato sul vostro cellulare servirà fotografando il QR code attraverso il tool specifico della mobile app servirà per attivare il token quindi in buona sostanza settata la password e fotografato il link QR code quello che visualizzerete alla fine è questo ovvero l'utente attivato la mail e come si chiama il token che gli è stato assegnato il verde sta a significare che è attivo ok di fianco poi avete qua di fianco avete poi una serie di tool da utilizzare per rimandare la mail di attivazione rimandare la mail di reset della password bloccare l'utente cambiare lo stato del token cancellare il token oppure aggiungere a quest'utente un altro token cosa che sarà fattibile in una seconda fase ok quindi avete proprio il management totale dei vari utenti l'altra modalità per avere utenti qui per vedere utenti è quella che probabilmente avete intravisto ovvero definire le utenze e utilizzare un LDAP un sync LDAP allora la stessa componente che ora vi farò vedere che installate per il radius vi permetterà di effettuare una query di tipo LDAP ha uno specifico search base che voi andrete a indicare è un po' come la configurazione se vogliamo dell'integrazione di watchcard con LDAP e active directory dove dovete andare a mettere il search base andando a mettere il search base qui e andando a configurare poi tutta la parametrizzazione quello che succederà è che andrete a sincronizzare e vedrete qui tutte le utenze quindi ci sarà una sorta di sincronizzazione ed esportazione di tutte le utenze che avete in active directory barra e led up da utilizzare per generare facilmente utenti che dovranno utilizzare multifactor authentication in dominio quindi se nella proprietà dell'utente all'interno del dominio è specificato anche l'indirizzo mail parallelamente a tutti questi signori verranno mandate le due mail di riferimento che vi dicevo prima in maniera tale da farli attivare direttamente con il loro token e quindi renderli assolutamente operativi una volta che avrò sincronizzato gli utenti se è un utente led up vedrete una stringhetta qui di fianco con su scritto led up una volta che li ho ottenuti li ho sincronizzati con il mio portale dovrò assegnare loro chiaramente un gruppo di appartenenza gruppo che gli consentirà ovviamente di fare di avere i loro accessi a secondo delle configurazioni e le customizzazioni del gruppo ok quindi gli utenti posso crearli io staticamente oppure sincronizzarli con query led up su ambiente at directory abbiamo citato poi più volte per la parte gateway vado a inserire il nominativo del software che adesso vi farò vedere e se viene utilizzato per la componente radius o per la componente led up allora l'area download mi consente di arrivo l'area download mi consente di scaricare tutti i tool che mi servono quindi abbiamo parlato prima di radius di applicazione di software che andrà a fare da radius di gateway che andrà a fare da radius e da utilizzare lo stesso momento per fare le query su server led up e sincronizzare le utente ecco dove vado a scaricare l'MSI file quindi scarico questo ho una guida anche diretta su come installarlo come configurarlo e una volta scaricato e configurato lo andrò a utilizzare poi all'interno delle mie risorse quindi il gateway installer per intenderci svolge il ruolo di radius server quindi si sincronizzerà con il database in cloud degli utenti e sincronizzazione con l'active directory per l'esportazione degli utenti in cloud quindi il gateway installer fa queste due cose sostanzialmente con una serie ovviamente di configurazioni che sono ben descritte poi l'altra componente software che mi interessa è la logon app quindi se ho a seconda del tipo di sistema operativo in ambiente windows scaricherò sulla macchina potrò ovviamente distribuirla con tutti i sistemi di deployment noti server di terze parti piuttosto che group policy se siete sotto ambiente active directory una volta che l'ho deployata sulle varie macchine dovrò affiancarla quindi quando la vado ad eseguire sulle varie macchine dovevo essere certo che nella stessa folder di esecuzione ci sia che cosa ci sia il file di configurazione estrappolato da qui quindi dopo che parametrizzo con il nome con il messaggio di supporto e con il synchronization interval genererò un file questo file accompagnerà ogni eseguibile ogni msi deployato sulla sulla macchina dovrà ovviamente fornire le parametrizzazioni che io avrò a disposizione nell'utilizzo poi del software stesso ok nella parte di setting posso andare a customizzare relativamente ai tentativi di login falliti di un utente per considerarla automaticamente bloccato oppure lato token per l'utente stesso per il token quindi per la one time password per il push discriminare la latenza il timeout del push quindi della notifica push per considerarlo ovviamente valida valido o meno quindi come vedete riassumendo definisco le risorse ovvero le componenti che saranno utilizzate per dare degli use case di utilizzo alla mia piattaforma multi-factor authentication quindi alla domanda cosa posso fare a cosa mi serve la multi-factor authentication nel nostro caso a fare queste cose quindi fornirti un portale di accesso per le web application integrare con attraverso protocollo SAML con le web application che lo supportano accedere al pc locale sia come macchina stand alone come utente stand alone che come utenti di dominio e utilizzare tutte le funzionalità di un firebox che richiedono l'utilizzo di un radius quindi vpn autenticazione locale e autenticazione di management al firewall definire il gruppo nel gruppo vado non è un gruppo di utenti lo ribadiamo ma è un gruppo di risorse è un gruppo di use case ogni utente avrà associato un solo gruppo quindi quell'utente potrà fare questo 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 e questo con le varie discriminanti che io gli impongo quindi password e push piuttosto che se ad esempio che ne so sull'idp portal posso dargli tutte e tre ok perché ce lo consente quindi quando accedi all'idp portal potrai avere tutto quello che vuoi a disposizione quindi dovrai usare sicuramente la password e successivamente utilizzare una delle tre metodologie di accesso che ti ho che ti ho fornito l'utente creato manualmente con la doppia mail di attivazione o sincronizzato con l'active directory attraverso il l'outpoint gateway porterà alla popolazione automatica degli utenti in l'edapp oppure alla creazione manuale come abbiamo visto prima all'utente deve essere associato mandatoriamente un gruppo ok perché quindi vorrei dire che quest'utente potrà fare potrà usufruire delle risorse e accedere alle risorse con il sistema multifattore authentication che io ho discriminato nel gruppo nella parte external identity vado a discriminare la query l'edapp che il mio gateway installer deve fare quindi a chi deve puntare per andarsi a scaricare per andare a sincronizzare gli utenti il gateway mi farà vedere tutti gli installer installati quindi tutti i gateway point installati software quindi che io trovo sia per quanto riguarda il gateway point sia per quanto riguarda la logon app che trovo qua nel repository direttamente allineato all'ultima versione è un po' per intenderci come nel sistema tdr quando andavate a scaricare l'agent direttamente nel portale ok quindi ripetiamo il gateway installer rappresenta il radius server nel mio ambiente mentre oppure fa da sincronizzatore con query e ledapp su database at the directory oppure la logon app è quell'applicazione che devo installare sulla macchina accompagnata importantissimo dal file di configurazione e che mi consenterà dopo l'installazione al riavvio della macchina di avere la multi-factor authentication quindi oltre che le credenziali della macchina stessa di inserire anche il ulteriore fattore quindi un push un qr code qr code se la macchina è offline e one time password push e one time password se invece la macchina è online ok quindi in buona sostanza queste sono le argomentazioni le parametrizzazioni che dobbiamo avere ben note per gestire correttamente il sistema del multi-factor authentication vi ricordo che abbiamo già pronto all'uso nel nostro help center tutta la parte relativamente ancora in beta quindi ancora è fruibile il programma beta la data di utilizzo ufficiale dell'ufficialità è prevista per il 24 luglio ma qui se volete curiosare abbiamo la configurazione quindi la integrazione di tutto quello che vi ho detto e specificatamente nel caso in cui vi interessi andare a lavorare con il protocollo SAM per sfruttare l'IDP portal andare a vedere andare a curiosare su tutta una serie di integrazioni che abbiamo già testato quindi che ne so c'è con GoToMeeting c'è con Salesforce insomma tutta una serie di parametrizzazioni già pronte all'uso ovviamente il prodotto è appena deployato questo farà fa capire e sono già pronte circa 40 guide di integrazione fa capire che da qui a un anno ce ne saranno decisamente decisamente di più e quindi avremo anche tutta una serie di use case da poter proporre allora come sempre vi ricordo vi ringrazio vi ricordo che il il webinar è stato registrato quindi sarà disponibile tempo tecnico di upload sul nostro canale youtube watch caritalia a brevissimo qualsiasi tipo di domanda inerente a questo servizio inerente all'outpoint piuttosto che in generale potete scrivermi tranquillamente al mio indirizzo gianluca.pucci chiocciola watchcar.com io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento nel caso non dovessimo sentirci più vi auguro buone vacanze e vi do appuntamento alle prossime sessioni grazie mille buona giornata a tutti